Barbara ha sempre detto di non conoscere Luigi Criscuolo per tutti Gigi Bici, a lei aveva mai parlato di lui? Non mi ha mai parlato e Barbara mi ha sempre detto, scritto prima e detto a voce, che di non conoscerlo. Però avrebbe contattato proprio dei conoscenti, degli amici di Gigi Bici l'8 novembre nei giorni successivi, chiedendo sempre la stessa cosa, finire quello che Gigi Bici aveva iniziato. Lei, di fronte a questi indizi, che opinione si è fatto? Io sono convinto che Barbara non è colpevole, ne sono convintissimo, perché me l'ha giurato, per me è sufficiente quello. Cosa le ha detto? Papà, ti giuro, io quella persona non l'ho mai conosciuta. Se quindi Barbara non ha fatto niente, non c'entra niente con questa storia, no? Barbara è stata incastrata, su questo ne sono convintissimo. Stiamo facendo delle indagini per vedere di trovare la quadratura del tutto. L'ho minacciato non lei, quanto il bambino. E allora lei, per evitare queste minacce, ha fatto quello che queste persone dell'Est, che sono state nominate più volte, l'hanno obbligata a fare. Questa banda dell'Est, lei è convinto che esista? Sono convinto che esiste. Manovrata da chi? Per adesso non lo so ancora. Secondo i familiari di Luigi Criscuolo, Barbara non avrebbe fatto tutto da sola. Ferma chiaramente la presunzione di innocenza. E si guarda proprio ai familiari, soprattutto a lei che è suo padre. Allora, io non sono assolutamente complice, non ne so niente. Barbara mi ha sempre detto di non conoscere questa persona, ragione per cui per me il discorso è già finito. Se lei non lo conosceva, tutto quello che è stato detto dopo non vale niente. Sono dottoressa Bruzzone, sono parole importanti quelle che ha detto il papà di Barbara, perché lui dice sostanzialmente io credo a mia figlia e sostiene la tesi della minaccia che sarebbe stata rivolta addirittura al bambino di Barbara Pasetti. Quindi una mamma che agisce sotto minaccia di chi? Di questo famoso fantomatico, famoso presunto gruppo di delinquenti dell'Est che l'ha ricattata. Milo, io rispetto le parole di un padre, rispetto dal punto di vista, diciamo così, generale. Però si sbaglia purtroppo il signor Pasetti. Si sbaglia in maniera clamorosa sulla figlia. Il fatto che la figlia gli abbia giurato chissà che cosa, temo, non sia un parametro di affidabilità che definirei insuperabile. Gli elementi che sono stati raccolti contro la Pasetti sono inequivoci, solidi, granitici, oserei dire. Non c'è nessun gruppo che la minacciava, non c'è nessun soggetto che la minacciava. La famosa è il primo messaggio che cerca di fare capitare alla famiglia di Gigi, dicendo che gliel'avrebbe dettato al telefono una donna la notte prima. Ampiamente è la dimostrazione che non c'è nessun tipo di contatto di questo genere. È lei stessa a scrivere le mail che poi manda a stampare dalla copisteria ed è pedinata mentre tutto questo avviene. Ci sono prove insuperabili del suo coinvolgimento. Ora dobbiamo stabilire fino a che punto può essere coinvolta. Magari su questo potremmo discutere chissà o qualche dubbio. Ma certamente lei è coinvolta e non c'è nessuno scenario minatorio nei suoi confronti. Mi dispiace per il signor Pasetti, ma credo proprio che le sue siano pie e illusioni. Però noi tante volte abbiamo detto che Barbara non può aver agito da sola per tanti motivi, escludendo, lo dice lui, poi non c'è nessun tipo di sospetto al momento di attinenza di prove, escludendo un familiare. Miro, però noi possiamo sicuramente, ad oggi possiamo dire però in maniera molto precisa anche sulla scorta delle esultanze investigative, ad oggi contestate nell'ordinanza per la parte estorsiva, che almeno per quanto riguarda quella parte, lei ha agito in assoluta autonomia e solitudine. Non c'è nessun complice nell'attività estorsiva. Ne va, diciamo, da sé, in maniera abbastanza logica, che difficilmente c'è un complice per l'omicidio. Ma che senso ha portare avanti un'attività estorsiva nei confronti di una famiglia che notoriamente non è una famiglia con disponibilità economiche? Cioè perché io devo commettere un delitto e a un certo punto rischiare di essere catturata, presa, scoperta, facendo arrivare delle lettere minatorie da cui non posso tirare fuori niente. Eh no, ce l'ha un senso. Dal suo punto di vista un senso ce l'ha. È chiaro che dobbiamo calarci nel suo particolare meccanismo di funzionamento personologico, ma dal suo punto di vista era un tentativo di tirarsi fuori dall'omicidio. Maldestro, gofo, quanto te pare, è anche quello di incentivare una certa sofferenza da parte dei familiari di Gigi, perché i messaggi che lei si scambia con la figlia Katia sono agghiaccianti, letti col senno di poi, cioè con quello che sappiamo oggi. Quando lei si pone addirittura come una, diciamo, sostanziale amica che offre la spalla per consolare la povera Katia e dice addirittura e si offre di darle conforto e di chiamarla in ogni occasione possibile e immaginabile, qualora ne sentisse il bisogno. Cioè questa è una personalità profondamente malevola. Noi non possiamo applicare i nostri schemi di pensiero a quello che ha fatto questa signora, perché lei non ragiona e non funziona come la maggior parte di noi. Certo, su questo allora non mi permetto, diciamo, di intervenire ulteriormente. È comunque complicato, Borgonovo, cioè proprio da cronista. Se tu metti insieme i pezzi, dici, allora io ho una donna che a un certo punto un giorno si sveglia e decide che il marito deve morire. Noi non diciamo che è andata così. È la cosa più verosimile. Va dal carrozziere, chi di noi non ha un carrozziere amico, gli chiede, conosci qualcuno che possa sistemare il mio ex marito? E l'altro dice, sì, ho la persona giusta, Gigi Bici, che viene descritto dalle figlie della moglie come un contaballe. Cioè con una persona molto disponibile, un uomo con un grande cuore, però sostanzialmente abituato a raccontare tantissime bugie e ogni tanto dare magari qualche scappaccione a quelli che non pagavano i 50 o i 100 euro di debito. Questo è il racconto di Gigi Bici, che a questo punto si offre come intermediatore in questa coppia a fare che cosa e poi finisce ammazzato con un colpo di pistola in faccia. Però mancano dei pezzi, diciamo, in questa narrazione, in questo racconto. E così la storia non sta in piedi. Intanto a raccontare balle qui sono numerosi, diciamo. C'è solo il povero Gigi Bici. Non c'è solo il povero Gigi Bici, al di là del ricordo un po' ruvido che ne ha fatto la figlia, proprio qui. Però può darsi anche che ci sia stato, come dire, un fraintendimento rispetto alla personalità di questa donna anche da parte di Gigi Bici, cioè che magari lui pensasse di offrirsi appunto per risolvere queste questioni come faceva in altri casi e poi invece la faccenda si è degenerata e ci si è finito di mezzo. Perché in questo c'era l'ipotesi, no? Barbara Pasetti che dà tanti soldi a Gigi Bici, no? Questi famosi 10-20 mila euro si favoleggiava di queste cifre, a un certo punto si sente truffata e ha una reazione. Ma di questi soldi non c'è traccia. Quindi non sono stati dati questi soldi. Esatto, cioè è vero che, come diceva l'Abruzzone prima, tutte le frecce puntano su di lei. Però ci sono... Mi sembra difficile a questo punto che non ci sia un grosso coinvolgimento di questa donna. Però effettivamente dei pezzi mancano, anche solo fisicamente e materialmente per portare a termine tutta la cosa, i famosi soldi che non ci sono. da lì a pensare che ci sia il coinvolgimento della mafia dell'Est o di chissà quali confraternite, segrete. Questo è un po' troppo, dice Riccardo Bocca. Vi sento tutti, Riccardo Bocca. Il concetto di millanteria in certi contesti è molto scivoloso. Nel senso che noi stiamo ragionando all'interno di un contesto locale, di un luogo dove le cose avvengono non per grandi piani stratosferici, ma per a volte miserevoli motivi e dove si cerca di risolvere e utilizzo il verbo risolvere per non dire altro, le questioni in maniera un po' così, aggiustata. Gigi Bici è il profilo dell'aggiustatore per Antonio Masi, nel senso che è quello che il racconto della famiglia... A Gigi portavi la bicicletta quando bucavi la gamba. Non gli portavi il Ferrari da regolare. Non soltanto, come hanno raccontato con grande sensibilità e onestà, peraltro, la compagna e la figlia, era anche l'uomo a cui ci si rivolgeva a volte quando qualcuno, diciamo così, non rigava dritto. Sì. Ecco, questo però... Non gli ordini un delitto, gli ordini di andare da Francesco Specchio a dire guarda, mi devi dare, devi dare... Ma è lì che parte il tema, cioè dalla figura che si rivolge all'uomo sbagliato, all'uomo sbagliato che inizia probabilmente a promettere cose che non farà mai. E siccome in tutto questo ci sarà stato un corrispettivo, no? Non viene fatto per amicizia, non esistono queste cose per amicizia, a questo punto qualcuno che non è ancora stato identificato sicuramente, perché stiamo parlando anche poi... Mancano dei tasselli. Mancano dei tasselli che vanno risolti, individuando delle persone... Mancherebbe anche Francesco Specchia il movente però, perché se noi, diciamo, escludiamo il ricatto, se noi escludiamo che Gigi Bici abbia potuto ricattare Barbara Pasetti, manca il motivo per cui Barbara poi... No, ma ce ne sono tantissimi motivi, però fondamentalmente credo che il motivo sia quello che si è sempre detto, cioè il problema... Lei si è sentita presumibilmente ingannata, ma ingannata da tutto il contesto perché ha alimentato lei stessa, si parlava di bassa umanità, Riccardo diceva appunto di persone che si possono trovare solo nei libri o nei romanzi di Pasolini, cioè è gente a cui non affideresti nulla e poi gli commissioni un omicidio, mi sembra una cosa talmente strana. C'è da dire che ci sono dei buchi, dei buchi per esempio, il corpo come è stato trasportato, sempre i soliti dilemmi, il fatto che ci siano impronte o tracce di tre uomini adesso dagli ultimi esami del DNA, cioè c'è qualcosa che non torna e che Barbara non ha rivelato, quindi tendenzialmente bisognerebbe aspettare che lei si decidesse una volta ogni tante a svuotare il sacco e dire la verità. Adesso sento subito Monica Leofredi, prendo una battuta da dottoressa Abruzzone, adesso senza scomodare cose più grandi, però dall'amico Alberto Matano il Toffano, l'ex marito, marito, ex marito di Barbara Pasetti ha descritto Barbara come una ragazza di cui si innamora per la sua eleganza, per questa sua raffinatezza, per questa sua imperturbabilità di fronte alle cose della vita ed è una Barbara molto, molto, molto lontana da come l'abbiamo conosciuta davanti alle telecamere. Un cambiamento, diciamo, repentino del carattere, come lo definirebbe? Repentino, probabilmente non è mai stata veramente come la credeva Toffano. Toffano si è sbagliato, diciamo. Esatto, cioè nulla di più facile, anche perché consideriamo quello che ci racconta oggi Toffano, ossia i due presunti tentativi di omicidio precedenti in cui lei avrebbe agito da sola. Parlo degli avvelenamenti. Quindi lei in realtà, se noi seguiamo questa narrazione sulla scorta delle informazioni che ci dà Toffano e che non penso abbia ragione di mentire, peraltro sono anche riscontrate da dei referti medici, per cui a questo punto c'è un ingrediente importante, cioè lei prima proverebbe per vie autonome secondo questa versione, tentando peraltro di fare in modo che generasse un incidente, quindi magari mettendosi alla guida in condizioni alterate potrebbe essere conseguito un incidente, a quel punto c'era l'elemento anche accidentale che poteva coprire magari il disegno. Questa cosa non va in porto, lui fortunatamente si sottrae a questi due tentativi e a quel punto da lì arriva, anche temporalmente ci siamo, arriva la richiesta al famoso carrozziere di trovare qualcuno che dovesse sistemare su questo sistemare. Dottoressa Bruzzone, la fermo per... Quindi c'è un disegno che è in piedi da parecchio tempo. Allora, la fermo, dottoressa Bruzzone, perché proprio su questo punto è intervenuto ancora una volta, abbi pazienza Monica, è intervenuto ancora una volta il papà di Barbara, perché allora arriviamo a... Facciamo fuori, faccio fuori il mio ex, ormai quasi ex marito, ma anche in questo caso ci vuole un movente, perché attenzione, Toffano è l'ex marito che ogni donna che si sta separando vorrebbe avere, perché è un ex marito che gli mandi la foto di un cadavere, te la stampa e non ti chiede niente. Due giorni prima la moglie, o ex moglie, lo chiama e gli dice ho ucciso, ho fatto uccidere una persona e finirò all'inferno. Sì, cara, ti passo a prendere tra poco, tutto bene, non si fa domande. Tenta di ammazzarlo due volte, avvelenando il caffè, lui dice ma sono cose che possono accadere. Cioè, Toffano è veramente una persona, come dire, di grande pazienza anche, però Toffano poi, poi è inutile che mi puoi far ridere. Se qualcuno ha qualcosa da dire, se mi voglia, però a bordo nuovo. Faccio la pazienza. No, diciamo che dopo due tentativi di uccidermi la pazienza è poca. Io non volevo raccontare, anche perché poi c'è l'altra faccia di Toffano, diciamo, l'altro aspetto, secondo il GIP che nell'ordinanza che si riferisce all'ex moglie, scrive che insomma Toffano viene licenziato perché fa sparire 33 mila euro. Sì, la credibilità non è esattamente una sua caratteristica, diciamo. La? La credibilità non è esattamente una sua caratteristica. Diciamo, è un po' particolare. Dico tutto questo, non per ricordare che Toffano sarebbe fregato questi 33 mila euro, che non ci interessa, però interessa il GIP che lo scrive. Ma per dire che cosa? Ci sarebbe il movente economico. A un certo punto Toffano diventa ricco perché è eredita dalla madre, appartamenti, box, case, cantine e quant'altro. A questo punto diventa un bel patrimonio ed ecco che ritorniamo al delitto Gucci a Pavia. C'è una moglie, una quasi ex moglie preoccupata che l'eredità passi a una nuova famiglia e decide ti faccio fuori. Ma su questo e sui tentativi di avvelenamento, presunti tentativi di avvelenamento del Toffano, interviene il papà di Barbara. Sentiamo cosa dice. Sempre Nicole Di Giulio. Secondo gli investigatori, Barbara avrebbe cercato di far uccidere il suo ex e lo stesso Gianandria Toffano, l'ex di Barbara, ha raccontato di aver subito due tentativi di avvelenamento col caffè. Dietro ci sarebbe un motivo economico. Se la Barbara avesse tentato di avvelenare Toffano, perché poi Toffano è andato più volte fuori a mangiare con lei, è andato più volte al bar con lei, almeno due volte a settimana si incontravano, è andato più volte a casa sua senza nessun problema? Secondo me non ci sono mai stati questi tentativi qui di Barbara. Non è stata Barbara a fare questi tentativi. Uccidere Toffano voleva dire togliere il padre e il figlio, quindi inimicarsi il figlio, rischiare di finire in galera, e farmi perdere un cospicuo importo. Quindi tre cose che non stridono. Lei ha prestato un'ingente somma di denaro a Gianandria Toffano che ancora non le ha restituito. No, neanche una lira. Gianandria mi aveva chiesto di intervenire economicamente per dargli una mano, io sono intervenuto. L'importo penso che sia forse pari o superiore all'eredità di Toffano. Barbara chiaramente ha conoscenza di tutto questo. Certo, mi ha fatto questa richiesta, io gli ho detto che potevo arrivare a un certo importo che poi gli ho dato e Barbara si era opposta e addirittura aveva minacciato di lasciarlo subito. Perché Toffano ha sempre parlato di un segreto dietro la loro separazione. No, assolutamente. Una cosa non vera. Il segreto qui non esiste. Il segreto, se mai, è il perché io ho dato i soldi a Toffano. Quello sì, è una cosa con cui è un accordo di riservatezza che non vi dico. Poi di altri segreti, magari c'è qualcosa che Barbara ha trovato che riguarda Toffano, che lo troverete poi nel momento in cui presenterai i documenti per la separazione.